Per un attimo si è persino pensato ad un accorpamento fra istituti scolastici. Stamani alla presentazione delle iniziative sostenute dal Comune per celebrare i cent'anni del liceo scientifico Oberdant. In realtà Oberdante è semplicemente il titolo di uno spettacolo che si terrà a Rossetti domenica prossima alle 17.30 dedicato alla Divina Commedia. Io posso parlare da ex studentessa che mi ritrovo ad avere un incarico importante nella scuola, mai avrei pensato ma per me è sempre stata l'idea di andare a insegnare, è sempre stata con l'idea dell'Oberdant ecco perché mi ero trovata bene con i miei insegnanti, volevo rifare quello e penso che questo sia proprio lo spirito della scuola, creare una comunità che resta e dei legami che rimangono per tutta la vita. Il mio figlio ha fatto l'Oberdant quindi sono felice di essere qui, cent'anni dell'Oberdant, cent'anni dell'università, questa è una storia importante, quindi la città in qualche modo ha offerto ai nostri giovani dei percorsi di studio di eccezionale qualità, quindi noi siamo qui a festeggiare con loro. Il 24 maggio in sala Luttazzi si terrà una conferenza incontro con allievi illustri della scuola, il 10 novembre è previsto un open day con la possibilità per tutti gli ex allievi di rientrare a scuola e scattarsi una foto per creare un album commemorativo. Il 25 novembre il concerto finale ieri, oggi e domani con tre cori, ancora da novembre a dicembre nella sala Leonor Fini di Porto Vivo sarà allestita una mostra storica. Noi lo stiamo vivendo tutti quanti come una grande famiglia, ognuno ha la sua parte nell'organizzazione, chi un po' di più chi un po' di meno, speriamo che tutti i nostri alunni partecipino numerosi a queste iniziative che proponiamo e siamo veramente tutti molto emozionati. Credo che la scuola oggi non abbia solo il compito di dare un indirizzo operativo e lavorativo ai nostri ragazzi e ai nostri studenti, ma soprattutto di farli crescere in quella che è la loro futura responsabilità istituzionale, civile, di cittadini, di famiglie, di padri di famiglie, di quelli che saranno gli anni splendidi che potranno vivere.